Purtroppo la percezione di questa sicurezza in questo momento è molto bassa, quindi quello che chiediamo noi è di spostare i ragazzi in una sede più sicura, dove le attività didattiche si possano svolgere tranquillamente ed in modo efficace, perché di tempo finora ne abbiamo perso già abbastanza. Marianna Belfatto parla a nome di tutti i genitori dell'Istituto Tecnico di Chieti Luigi di Savoia. Ieri l'inizio dei lavori di demolizione della storica struttura, stamani in provincia un incontro a cui erano presenti tutte le parti interessate, l'ente committente, cioè la provincia, la ditta affidataria dei lavori, l'ufficio scolastico regionale, le diverse componenti della scuola e rappresentanti di genitori e ragazzi. Il confronto è stato civile, a tratti anche serrato, ma forse risolutivo per la sorte dei circa 500 ragazzi, più il personale della scuola, che occupano l'altra parte del plesso e che hanno disertato le lezioni, adducendo ragioni di sicurezza, ma anche rumori e polveri inevitabilmente causati dal cantiere. La dirigente scolastica, Grazia Angeloni. La quadra è stata trovata con nove aule in più nel liceo scientifico Masci di Via Vernia e ancora le altre aule fino a ottenere che le 22 classi del Savoia per un totale di quasi 500 ragazzi sfollino completamente presso il Gagliani dove sappiamo esserci la disponibilità di parecchie aule. Sono effettivamente molto contenta, un grande risultato ancora più perché è una soluzione apprezzatissima da tutti ed effettivamente condivisa dall'intera comunità cittadina e del Savoia. Ieri e oggi gli studenti non sono entrati nelle classi, secondo lei quando potrebbero entrare, fermo restando che questi trasferimenti vadano a buon fine? Io mi auguro che già da domani possano rientrare sicuri, volere e potere, d'accordo che ad impossibilia Nemo Tenetor, ma qui stiamo parlando di ragazzi, di capitale umano, di capitale sociale, del futuro capitale professionale. Noi abbiamo il dovere di tutelare il diritto all'istruzione, quindi questo va fatto, va fatto subito, perciò i ragazzi domani mi sento di dire che devono assolutamente rientrare nelle nuove aule. Grazie.